Mi sembra che abbia chiamato il comandante Cacciotti che dovrebbe avere 1700 suoi uomini Dice l'unico che poteva far ragionare Putin era Berlusconi, ma scusa Berlusconi che c'entra? Cacciotti? Allora io non sono né pro Putin né pro Togreschi, però la cosa che mi farà è che oggi vi sto vivendo una pagina della storia bruttissima Questo lo sappiamo, gli altri c'hanno il direttore di Limes, qui c'è Cacciotti, pensate, porca puttana Dalle altre parti c'è il generale Cacciotti Comandante Comandante Cacciotti Minchia madonna benedetta Il lino Banfi dell'esercito italiano Attacco perché parlare con un delicente con il Parenzo non mi piace Cacciotti leva il viva voce Cacciotti leva il viva voce Leva il viva voce Leva il viva voce Leva il viva voce, Marco dalla provincia di Arezzo Vai, dimmi Marco Viva il viva voce